Drama in piscina dove sabato pomeriggio un nuotatore ha sprofondato in acqua e sono andati a vuoto i tentativi di rianimarlo. È successo attorno alle 18.50 all'impianto sportivo Pantasport di Arezzo. L'uomo, un 49enne, ha accusato un malore mentre si trovava in vasca. Dalla piscina, una delle più frequentate della città, è subito partita alla richiesta di soccorso. Sul posto sono arrivati i mezzi dell'emergenza urgenza dell'Asla Toscana Sud-Est. È arrivata un'automedica di Arezzo, Croce Rossa e Misericordia. Purtroppo per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Si tratterebbe di un nuotatore libero di quelli che cedono alla piscina per allenarsi quindi al di fuori dei corsi. All'impianto sportivo Pantasport per i rilievi dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri di Arezzo. Sono infatti in corso le indagini per risalire alla causa della morte. Si potrebbe andare verso l'apertura di un fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato né indagati.